Campo Basso Civitanovese è preceduta da un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terremoto del centro Italia. La Curva Nord-Scorrano si associa al dolore delle popolazioni marchigiane gravemente colpite. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori, di cui una manciata da Civitanova Marche. Nei settori della Tribuna Centrale e Curva Nord-Scorrano spiccano delle griglie costruite in ottemperanza delle prescrizioni su alcune misure da rispettare, imposte dalla Commissione dei Pubblici Spettacoli e dai Vigili del Fuoco. La capienza non è intaccata, alcuni posti infatti sono stati recuperati altrove. I Rosso-Blu fanno bene a tratti, al cospetto di un avversario non trascendentale appena tornato in Serie D. Il colpo d'occhio lo presta il manto erboso, che è in perfette condizioni. Al sedicesimo, un calcio d'angolo non riuscito al campo basso, innesca involontariamente un contropiede marchigiano. Il campo basso si era riversato tutto in avanti, tranne Cotticelli e Montuori. Barbosa vince il duello aereo con Grazioso, Montuori alza il pallone. Barbosa stesso rimane in agguato prima che il difensore di casa allontani definitivamente la sfera. Al diciannovesimo, grossa palla gol per il Rosso-Blu e Sudant, che è defilato, riesce a concludere. Grandissima risposta di Vassallo, la palla sfortunatamente carambola sul palo, poi in angolo. Il campo basso si dimostra una squadra combattiva, formata da tanti giovani interessanti, che meritano anche gli applausi del pubblico di casa. Al trentaquattresimo, alto il tiro del centrocampista Tini. Quest'ultimo è protagonista anche al quarantatresimo, quando riceve il cross di Montuori e conclude trovando la deviazione di Vassallo. Un minuto più tardi si incaponisce Montuori, gli avversari non lo fermano. Il baby rosso-blu effettua un tiro alzato in angolo dal portiere dei Bianchi. Senza reti alla fine della prima frazione, pronti via dopo quattro minuti dall'inizio della ripresa. C'è il cross di Battisti intercettato in aria dal braccio di Montuori. Il signor Festa non se ne avvede, il suo collaboratore assegna il braccio galeotto del conseguente calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Negro che spiazza Cotticelli e si lascia poi andare ad un'esultanza sopra le righe che gli costa il cartellino giallo. La verve di Negro continua al settimo quando Cotticelli è bravo a respingergli il tiro ad altezza primo palo. Straordinario il gol del pareggio rosso-blu giunto al decimo. Sudant porta palla ai 16 metri e esita prima del tiro, a differenza di Voltasio che non ci pensa su due volte. Prima di scaraventare con precisione il pallone nel sette. Splendido il pareggio di casa, vano il tuffo di Vassallo. La partita si accende ed offre maggiori spunti. Al dodicesimo da corner, uscita non positiva di Cotticelli che poi si riscatta su tiro di Battisti con tanto di esultanza del numero uno rosso-blu. Che palla gol al ventiduesimo per Barbosa lanciato sul filo del fuorigioco tenta di beffare Cotticelli che respinge sul tap-in che sembra vincente. C'è la grandissima deviazione in angolo di Frezzi. Selvapiana applaude il difensore rosso-blu. Perrella rimedia un infortunio alla spalla che lo costringe a lasciare il campo a Mulatero a partire dal trentunesimo. Novelli fa entrare anche De Matteissi, luogo di Montuori. La gara continua a viaggiare sui binari di un discreto equilibrio. Al trentottesimo da Fermo Negro tenta di sorprendere Cotticelli che si dimostra reattivo. Al quarantesimo Tortelli protesta a lungo e prende il giallo. Le rimostranze proseguono tant'è che il signor Festa gli mostra il rosso in pochi istanti. Al quarantaquattresimo dal fondo tiro grosso di Mulatero con palla a lato. I rosso-blu stavano per patire la beffa al novantatresimo. Punizione di Negro. Buco di Cotticelli inzuccata di Barbosa vantaggio ospite che sfuma. Finisce in pareggio, si va così ai calci di rigore. Per i locali segnano nell'ordine Sudant e in prota. Negli ospiti gol di Wade, poi parata di Cotticelli su aprile. Il Campobasso inaugura una sequenza terribile fatta dagli errori di Grazioso Palo, dal cucchiaio discutibile di D'Angelo e dalla conclusione al lato di Voltasio. Il Campobasso esce dalla Coppa Italia ma dà una discreta impressione in attesa che l'organico venga completato almeno da tre elementi.